Grazie del prossimo video, oggi non siamo in nessun video di Fortnite perché ragazzi oggi vi devo spiegare una cosa che purtroppo a me non fa tantissimo piacere cioè da una parte si mi fa piacere e dall'altra quasi no perché siccome ho passato tantissimo tempo da quando inizio a giocare a Fortnite insieme ai miei amici più stretti, ti sapete che sono Giorgio, Ciro e Angelo una parte di oro non ce ne va, viene con me, cioè Angelo purtroppo lascio il team, questo non significa che io non continuerò a giocare con loro il tempo che apro lo dedicherò a loro per la vita sociale, non che non sia una cosa sociale, sia una cosa asociale lo dedicherò a loro perché comunque mi hanno... io mi ritengo forte e solo grazie a loro perché il cammino che ho fatto è iniziato insieme a loro grazie a loro, sono piaciuto... grazie a loro e quindi questo video è un po' così spero che accettiate questa cosa e quindi voglio fare un saluto e ringrazio grazie a Giorgio, a Giorgio e a Ciro soprattutto perché Angelo viene con me in quest'altro team poi vi darò spiegazioni oggi alle 16 sul canale e adesso appariranno i loro nomi vabbè, volevo fare uno speciale ringraziamento soprattutto a loro e soprattutto a Ciro perché comunque... cioè noi soprattutto... cioè anche soprattutto a Ciro perché quando non c'è stato Giorgio c'è sempre stato lui, sempre non dico che ci sia stato qualche volta sì e qualche volta no ci sia stato lui sempre, sempre quindi... detto questo vi lascio a... vi lascio... e noi ci vediamo in un prossimo momento bella raga